Ci sono volute quasi due ore per domare l'incendio che ha coinvolto il terreno che si trova sul lato sovrastante la via salvo d'acquisto per poi propagarsi verso la zona abbalate. Le fiamme divampate intorno a mezzogiorno hanno bruciato le sterpaglie ma anche la vegetazione presente nell'area, tra cui esempi di macchia mediterranea. Immediato l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco e della forestale, sul posto anche le pantere verdi e i carabinieri. E mentre sono in fase di accertamento e le cause dell'incendio non sono stati registrati danni a cose o persone. Momenti di paura dunque, soprattutto per i numerosi residenti della zona che alla vista delle fiamme hanno allertato i soccorsi.